Solidificazione dei metalli e imperfezioni cristalline. Faremo tre esercizi e poi vedremo le soluzioni. Perché è importante parlare della solidificazione dei metalli e delle leghe? È importante perché nei processi industriali la maggior parte dei metalli vengono prodotti partendo dal metallo fuso. Quindi ci sono due metodi di lavorazione, o facendolo solidificare come semi lavorati, oppure producendo direttamente dei prodotti finiti. Si inizia colando un lingotto, come vedevamo appunto nell'immagine prima, e poi una volta prodotto questo lingotto, questi lingotti sono poi laminati con questi macchinari, come vediamo in questa immagine, e otteniamo lamiere, nastri, travi, binari e così via. Come si forma il metallo solido dal metallo liquido? All'inizio abbiamo il metallo liquido e abbiamo appunto dei dendriti, che sono dei piccoli nuclei che iniziano a formarsi dentro a questo liquido, nel momento che la temperatura scende al di sotto della temperatura necessaria per la solidificazione. I dendriti cosa sono? Sono delle piccole strutture che ricordano vagamente degli alberi di Natale. Poi questi dendriti diventano dei cristalli, e questi cristalli poi nel prossimo passo formeranno dei grani. Come si è solidificato il metallo, abbiamo appunto dei grani, delle linee che separano questi grani, si chiamano bordi di grano, e delle differenze tra queste strutture. Parliamo della dimensione critica. Al di sotto di una certa dimensione noi parliamo di un embrione, parliamo sempre dei dendriti, perché questo piccolo nucleo si riscioglie. Una volta invece superata la dimensione critica, abbiamo il nucleo che è appunto più grande dell'embrione, che forma un cristallo. Guardiamo il raggio critico. R è il nostro raggio critico. Abbiamo due volte gamma per Tm, quindi gamma che è l'energia libera di superficie, Tm la temperatura di solidificazione, diviso delta Hf, un calore latente di fusione, e delta T, che è il sottoraffreddamento necessario per la formazione dei nuclei. Guardiamo il primo esercizio. In cosa consiste? Consiste nel calcolare il raggio critico in centimetri di un nucleo omogeneo che si forma quando il rame è puro, liquido, solidifica. Assumere un sottoraffreddamento delta T, e riguardiamoci i dati. Abbiamo il rame, Tm, la temperatura di solidificazione del rame, sono 1356 Kelvin, delta Hf, quindi il calore latente di fusione, sono 1826 Joule al centimetro cubo, e poi abbiamo gamma, l'energia superficiale, che sono 177 per 10, meno 7 Joule al centimetro quadro. Mettete in pausa ora, e poi lo correggiamo assieme. Calcoliamo il raggio critico di un nucleo omogeneo che si forma quando il rame è puro, liquido, solidifica. Assumiamo un sottoraffreddamento delta T, uguale 0,2 Tm. Noi Tm lo conosciamo, è la nostra temperatura di solidificazione del rame, 1356 Kelvin, lo inseriamo al posto di Tm, e otteniamo che 0,2 moltiplicato per 1356 Kelvin, uguale 271 Kelvin. A questo punto utilizziamo la formula che avevamo sulla slide dell'esercizio. Abbiamo la nostra temperatura di solidificazione, che inseriamo, poi abbiamo il nostro calore latente di fusione, 1826 Joule al centimetro cubo, che inseriamo, e poi abbiamo la nostra energia superficiale, con 177 per 10, meno 7 Joule al centimetro quadro, che ci inseriamo qua. Delta T l'abbiamo calcolato prima, quindi inseriamo anche delta T, e diventano 271 Kelvin, e otteniamo 9,7 per 10 almeno 8 centimetri. Passiamo al secondo esercizio. Durante la solidificazione, come viene influenzata la dimensione critica del nucleo dal grado di sottoraffreddamento? Si assuma che avvenga una nucleazione omogenea. Mettete in pausa ora, poi lo correggiamo assieme. Come viene influenzata la dimensione critica del nucleo dal grado di sottoraffreddamento? In generale, maggiore è il grado di sottoraffreddamento di un liquido fuso, minore è il raggio critico dei nuclei formati. Passiamo all'esercizio 3. Nell'esercizio 3 bisogna calcolare il numero di atomi del nucleo di dimensione critica in questa condizione di sottoraffreddamento. Abbiamo a disposizione due formule. Una è il volume nucleo di dimensione critica, che sono 4 terzi PR al cubo, e l'altro è il volume della cella unitaria per rame, che è A al cubo. Semplicemente la lunghezza da qui a qui al cubo, perché tutte e tre queste lunghezze sono grandi uguali. Sappiamo che il rame ha una struttura cristallina CFC, quindi cubica a faccia centrate. Vi ricordo che R stellina è il raggio critico del nucleo, in questo caso appunto stiamo parlando del rame, e sono 9,7 per 10 almeno 8 centimetri. E A, la costante reticolare del rame, sono 0,361 per 10 almeno 8 centimetri. Mettete in pausa ora, lo correggiamo tra un attimo. Prendiamo la nostra formula e inseriamo il raggio critico del nucleo di rame, al posto appunto di R stellina. Quindi otteniamo 3,82 per 10 almeno 23 centimetri cubi, che sarà il volume nucleo di dimensione critica. Poi ci calcoliamo il volume della cella unitaria del rame. Prendiamo A, la nostra costante reticolare del rame, che ricordiamo essere 0,361 per 10 almeno 8 centimetri. Le inseriamo, la mettiamo al cubo e otteniamo che il volume della cella unitaria di rame sono 4,7 per 10 almeno 23 centimetri cubi. Quanti atomi ha una struttura cristallina CFC, cubica a facce centrate, come è il caso del rame, per ogni cella? Ne conta 4. Conta 4 atomi per ogni cella. Contate che questi qua agli angoli valgono un quarto, quindi un quarto più un quarto più un quarto più un quarto, uno, un quarto più un quarto più un quarto più un quarto, due. Ognuno di questi conta mezzo, quindi mezzo più mezzo più mezzo più mezzo più mezzo più mezzo. Togliamo il volume occupato da ogni atomo della cella CFC. Prendiamo 4,7 per 10 almeno 23 centimetri cubi, lo dividiamo attraverso 4, che è il numero degli atomi, e otteniamo 1,175 per 10 almeno 23 centimetri cubi. A questo punto possiamo dividere il volume del nucleo critico omogeneo attraverso il volume occupato da ogni atomo della cella CFC. Otteniamo 3,28 per 10 almeno 21 centimetri cubi, diviso 1,175 per 10 almeno 23 centimetri cubi. Centimetri cubi attraverso centimetri cubi, o meglio volume diviso volume, diventa un numero, e quindi otteniamo 325 atomi. Finora siamo sempre partiti dal presupposto della nucleazione omogenea, quindi quella che avviene dentro un metallo puro, un metallo puro che non ha contatto con altre superfici, eccetera. Però nei processi industriali, di fatto, è più frequente la nucleazione eterogenea, quindi abbiamo delle purezze insolubili, ma queste purezze insolubili possono essere anche semplicemente le pareti del contenitore da colata, e avere questi elementi che non fanno parte dello stesso metallo, abbassa la necessità di sottoraffreddamento. Abbiamo visto finora che più sottoraffreddamento abbiamo, più è possibile la solidificazione, se o nel momento che abbiamo delle impurezze, la temperatura di sottoraffreddamento non ha più la necessità di essere così alta, cioè non abbiamo più bisogno di raffreddare così tanto il metallo per farlo solidificare. La nucleazione viene facilitata dalla presenza di queste impurezze, perché questo? Perché l'energia richiesta per formare un nucleo stabile in presenza di queste impurezze si abbassa, e quindi quando si formano pochi grani in un metallo policristallino si ottiene una struttura più grossolana. Se invece i grani che si formano sono molti, otteniamo una struttura a grani fini. Perché vogliamo la struttura a grani fini? La vogliamo perché di solito hanno una migliore resistenza meccanica e una migliore uniformità. Se poi vogliamo usare quel metallo per farci le travi, vogliamo che le caratteristiche siano uniformi. Guardiamo come funziona una colata, cioè come si solidifica una colata. Abbiamo appunto una lingottiera nella quale viene prodotto del metallo liquido. Ai lati abbiamo dei grani equiastici, che si formano perché sono a contatto con la superficie della lingottiera. Invece al centro abbiamo dei grani colonnari, che appunto c'è un forte gradiente di temperatura, serve un forte gradiente di temperatura, abbiamo pochi nuclei e una solidificazione lenta. Se invece quelli a lato sono a contatto con la lingottiera. Guardiamo come si formano le leghe metalliche. Parliamo all'inizio delle soluzioni solide sostituzionali. Guardiamo le regole di Hume Rotary, che ci dicono quali sono le condizioni necessarie in modo che una lega metallica possa formarsi. La differenza dei diametri degli atomi deve essere meno del 15%. Vedremo tra un attimo il perché. Dobbiamo avere le stesse strutture cristalline, e non dovrebbero esserci differenze apprezzabili nelle netronegatività dei due elementi. E poi i due elementi devono avere la stessa valenza. Un reticolo atomico non è che può espandersi, cambiarsi, contrarsi all'infinito. Può sostenere solo poca espansione o contrazione. Quindi, se abbiamo questo primo caso, è perfetto per la formazione di una lega. Le stesse dimensioni, tutti gli atomi, perfetto. L'atomo del secondo elemento che vogliamo mischiarci a una dimensione diversa, già diventa più difficile. E poi c'è una dimensione a partire dalla quale non funziona più. Passiamo all'esercizio 4. Calcoliamo la differenza di raggio atomico rispetto al rame degli elementi zinco, piombo, silicio, nickel, alluminio e berriglio. Abbiamo questa formula, quindi la differenza di raggio atomico è uguale al raggio dell'atomo soluto meno il raggio dell'atomo solvente diviso il raggio dell'atomo solvente. Cosa è l'atomo soluto? L'atomo soluto sono quegli elementi che noi vogliamo provare a mescolare al rame. Zinco, il piombo, il silicio, nickel, alluminio e berriglio. Invece l'atomo solvente è il rame stesso. Questo termine moltiplicato per 100%. Qui avete il raggio atomico in nanometri nei diversi elementi. Mettete in pausa ora, lo correggiamo tra un attimo. Noi abbiamo questa formula per la differenza di raggio atomico. Iniziamo a metterci dentro, a inserirci i dati che abbiamo a disposizione. Noi facciamo l'esempio dello zinco. Quindi il raggio del nostro atomo soluto sono 0,133 nanometri meno il raggio dell'atomo solvente che sono 0,128 nanometri diviso 0,128 nanometri per 100%. Scusate, ho dimenticato di scrivere nanometri qua dietro. E otteniamo più 3,9%. Quindi la differenza di raggio atomico della lega rame e zinco sono più 3,9%. Per prevedere l'assolubilità, oltre alla differenza di raggio atomico vanno tenute conto anche le strutture cristalline, la differenza di elettronegatività e le valenze. La differenza di raggio atomico è tuttavia il fattore principale. Infatti, nel nostro caso di questo esercizio noi abbiamo tenuto conto solo di quella, abbiamo calcolato solo quella. Guardiamo qual è il grado previsto. Abbiamo rame e zinco, una assolubilità molto alta, per il piombo diventa molto bassa, per il silicio moderata, per il nickel è molto alta, per l'alluminio moderata e per il beriglio pure. Passiamo ai difetti cristallini. Ne abbiamo quattro tipi. Abbiamo i difetti di punto, i difetti di linea, che possiamo anche chiamare dislocazioni, i difetti planari e i difetti di volume. Facciamo degli esempi dei difetti di punto. Un difetto di punto tipico è la vacanza. Poi abbiamo un altro difetto di punto, che è l'atomo interstiziale. Per esempio, esiste nel ferro di tipo CFC. Noi possiamo avere un vuoto massimo interstiziale del ferro, che sono 0,53 nanometri, e il raggio del carbonio sono 0,75 nanometri, che è una differenza così piccola che il carbonio riesce a starci dentro, riesce a infilarsi dentro. E le chiamiamo soluzioni solide interstiziali. Il carbonio ha una massima assolubilità del 2,08%, perché appunto è un po' più grande, quindi non è che può intrufolarsi dappertutto. Però un ogni tanto il ferro di tipo CFC riesce a sopportarlo. Guardiamo ora i difetti di linea. Tra i difetti di linea abbiamo la dislocazione a spigolo. Immaginate questa qua come la sezione di un cristallo che continua sia verso di noi che verso addietro lo schermo. Abbiamo questi diversi strati, e a un certo punto c'è uno strato che si infila in mezzo. Quella è la dislocazione a spigolo. Invece nella dislocazione a vite abbiamo uno strato che a un certo punto è alzato di mezzo passo in un lato e abbassato di mezzo passo nell'altro. Poi abbiamo i difetti planari. La prima, la più ovvia, è la superficie. Perché la superficie? Perché gli atomi di superficie sono legati ad altri atomi solo da una parte, mentre dall'altra no. E questo, a livello di struttura cristallina, è un difetto. E poi perché sono suscettibili all'erosione, alla reazione con gli elementi dell'ambiente. Poi abbiamo, come difetti planari, sempre i bordi di grano. I bordi di grano, ci ricordiamo, sono tra i diversi grani che formano il metallo. E sono dei difetti di superficie che separano appunto questi grani, e i grani hanno diverso orientamento. Quindi, avendo diverso orientamento, c'è un cattivo arrangiamento degli atomi tra i grani adiacenti. E quindi sono più favorevoli alla crescita dei precipitati. Nel quinto esercizio, cosa dovete fare? Dovete descrivere le dislocazioni a spigolo e a vite. E poi dirmi in quale abbiamo dei campi di compressione, in quali abbiamo dei campi di tensione, e in quali abbiamo dei campi di taglio. Mettete in pausa ora il video, e lo correggiamo tra un attimo. Passiamo alla soluzione dell'esercizio 5. Dovevate descrivere le dislocazioni a spigolo e a vite, e dirmi in quali abbiamo i campi di compressione, di tensione e di taglio. In questo caso parliamo delle dislocazioni a spigolo. È un difetto di linea, dicevamo, causato da un semipiano di atomi in eccesso tra due piani di atomi, questi due qua, dove è presente il semipiano in eccesso abbiamo una zona a compressione. Quindi qua giù abbiamo una zona a compressione. E invece dove manca c'è una zona di tensione. Immaginate queste linee come se fossero dei piccoli elastici, no? Adesso ne avete inserito questo semipiano in più, questi elastici qui sono tesi. E poi infine abbiamo la dislocazione a vite, e la dislocazione a vite è un difetto sempre di linee, ed è dovuto all'applicazione di sforzi di taglio. Grazie a tutti.